la propaganda è lo strumento con cui hanno fatto e stanno facendo credere allo spazio e alla teoria dell'eliocentrismo che come vi ho già mostrato si tratta di una dottrina astronomica e filosofica che in opposizione al geocentrismo pone il sole al centro del sistema planetario c'è scritto chiaramente sulla tre cani l'hanno diffusa questa propaganda attraverso i film e chiunque sa fare un po di ricerche sa che quello che ci fanno credere fossero state riprese fatte da fuori dalla nostra terra sono state invece fatte a terra si capisce semplicemente dall'incisione dei famosi di hollywood degli astronauti ops degli astro non auti ma astro attori per quale motivo dovrebbe essere posta al posto degli attori questa che vedete è la foto famosa che ritrae da sinistra a destra il consulente della nasa frederick ordway l'astronauta della nasa dick slayton lo scrittore di fantascienza arthur c clark il registra stanley kubrick e l'amministratore del progetto apollo george moeller propaganda attraverso i globi mostrati durante gli anni dell'universal picture pensate sono più di cent'anni che mostrano il globo sempre prima dei film prima e durante i telegiornali alle scuole primarie elementari medie superiori università nei luoghi pubblici nelle pubblicità sempre quello che vediamo è un video che dura oltre 38 minuti trovate il link nella descrizione che lascia senza parole per la sua trama continuano a far credere alle persone attraverso queste immagini l'idea di poter vivere su altri pianeti inabitati su una luna inabitata cercano incessantemente di convincere attraverso la teoria della relatività di einstein la natura tettonica della nostra terra e dico apertamente teoria perché semplicemente sul libro il risveglio a pagina 73 trovate il capitolo albert einstein mese in moto la terra dove viene spiegato come hanno inventato una dietro l'altra le formule matematiche ad hoc al fine di dare una parvenza di credibilità agli esperimenti fatti negli anni che davano risultati in disaccordo con le loro teorie cercano di dar da bere che altri pianeti ed altre lune sono uguali a quelle della teoria aliocentrica questi video e si vede chiaramente sono realizzazioni di grafica computerizzata rinforzano sempre la teoria della gravità fanno credere che cassini una volta lanciato da terra sfrutta la gravità della stessa per poi essere lanciato come da una fionda fino al pianeta venere e scattare fotografie alla terra poi restare in orbita attorno a venere e prendere nuovamente forza per essere lanciato sempre come fosse il lancio da una fionda fino a giove e una volta dall'orbita di giove essere lanciato fino a saturno che grande presa per i fondelli non c'è nulla ad aggiungere riescono a far credere a quello che vogliono far credere desidero condividerle le immagini di questo video perché raccontano alle persone che si tratta di veri filmati riescono a tenerle aggrappate abbindolate a credere si tratti di realtà non dimenticate che ogni giorno la nasa incassa 65 milioni di dollari ed usano ancora cellulari a conchiglia tecnologie video vecchie ma non sono in grado di trasmettere semplicemente un filmato in chiaro e vero della nostra meravigliosa terra riescono a far credere invece che questi sono filmati veri ma sono uguali ai videogiochi fatti con semplici computer che chiunque lavora sulla grafica computerizzata è in grado di produrre eppure riescono a far credere si tratti di realtà per quanto riguarda arrivi e partenze dalla terra nessun filmato come questi dove si vedono partenze da terraggi su tutti i pianeti ma sulla terra mai vogliono far credere che queste immagini erano disponibili già dal 2017 2019 ma nessuno le ha mai viste prima eppure la gente pensa si tratti di immagini vere ricordo che attraverso il video inganno spaziale voyager e il network nello spazio profondo pubblicato sul secondo canale youtube le sonde cassini avevano solo 68 kilobyte di memoria vi basta tutto e solo materiale in cgi per i vostri credo per la vostra fede